Ragazzi, questo è Houston Station alle 19.22, 23. Guarda quanta gente che c'è, gente che arriva, gente che deve partire. E sono le sette e mezza di sera, il giovedì. Uno non si immagina che la sette e mezza di trani sia così incasinata. E sopra c'è tutti i negozi, c'è tutto un piano solo di ristoranti, che ovviamente sono inaccessibili, volevo mangiarmi qualcosa, ma è impossibile. Sono file di 15 persone per un panino del cazzo. Faccio qualche negozio, libri, stronzate varie. E guarda tutti i vari binari, 4, 5, 6, ce ne sono 15 a Houston. Houston è una delle stazioni principali che collega il nord di Londra con le città fuori. Ci avete collegamenti con Birmingham, Manchester, Edimburgo, Liverpool, tutto. Tutto quello che è a nord fondamentalmente. E' nulla, quindi pensavo che il giovedì fosse un po' più tranquillo. Invece c'è sempre troppa gente in questa città. Poi ci sono quelli con le bici, queste bici pieghevoli. Principalmente abbiamo gente locale, gente che torna a casa dal lavoro. Però vedete anche molte valigie, molta gente che viaggia. Può essere che viaggino perché hanno fatto 3-4 giorni di lavoro a Londra, adesso torna nel loro paesello fuori città. Oppure semplicemente turisti, gente in visita. Però quasi tutti local, turisti veri e propri, tipo italiani, spagnoli, eccetera. Qua a Houston non ne troverete. E niente, quindi ci si piazza qua in attesa. Come vedete le etnie non mancano. Abbiamo anche ebrei, come dire, molto conservatori. Proprio vestiti classici. Tutte le razze, tutte le religioni. Questa è Londra. Ovviamente treni stracolmi di gente. Che ve lo dico a fare. Vabbè, vi aspetto il mio di trenino. E ci sentiamo alla prossima.